Cari spettatori del Cinevirus, oggi parliamo di Paul Fitchon, 1994, regia di Quentin Tarantino. Aveva 31 anni quando lo gira e veniva dalla rivelazione delle Iene. Ma questo è il film che lo rivela definitivamente, un film spartiacque che ne dispiega il talento esplosivo. Che cos'è Paul Fitchon? È anzitutto un orologio impazzito. Ci sono tre storie che si dipanano intrecciandosi l'una con l'altra, vanno avanti e indietro senza un ordine apparente. E poi è un frullatore. È un frullatore perché Quentin ci mette dentro di tutto. Il cinema di serie A, l'amatissimo cinema di serie B, il thriller, il gangster movie, la comedy, lo splatter, i dialoghi surreali a partire da citazioni bibliche, quelli che fanno i due protagonisti del film. Vincent Vega, interpretato da John Travolta, non avrebbe dovuto essere lui il protagonista. Era stato scelto Michael Madsen. E poi Samuel Jackson e Jules Winfield vanno in giro con una valigetta piena di dollari. E poi c'è la donna del capo, Uma Thurman, e una coppia estemporanea di rapinatori, Tim Roth e Amanda Plummer, che hanno la sfortuna di incocciare i due gaglioffi. E ancora un pugile, Bruce Willis, che vende l'incontro che avrebbe dovuto perdere. Tarantino non smette mai di provocare il pubblico. Lo dice lui stesso. Voglio portare lo spettatore da un'altra parte e poi all'improvviso, boom, sorprenderlo. Questo è Palficcio. Insieme a una colonna sonora che è come il film. Non smette di sorprendere e di portarci sempre da un'altra parte con questo ritmo straordinario del film. Memorabile il twist tra John Travolta e Uma Thurman.